sta un po' scattà la musica eh si sa che è un po' provato si si adesso fammo la prova e vediamo come va in caso ciao allora qui ci siamo la chat è aperta è ok io sono in live e va bene tutto questo lo posso chiudere allora ragazzi a quanto pare dopo anni io a Senigallia e Michele a Perugia possiamo giocare a Powerstone 2 sul Dreamcast online contemporaneamente a chilometri di distanza e lui mi affetta l'inguine che palle che la spada scotta come era mi? era di legno dici? che palle sti zoffoli allora quella spada è inavvicinabile vieni vieni mi ah la brodonna scotta scotta l'esplosione com'è? parecchio lag eh comunque eh sì anche a me no che bucio de culo che bucio de culo rotto che sei no anch'io un po' ma cacchio ma scher... vabbè no 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 guarda che bucio de culo pure il basto eh 50 gioielli ma non è vero uno era il tuo aia scotta vieni qua sull'albero dove vai dove vai adesso hai da vede che caccola che te donta la testa aia aia orco2 me l'ha fatto andare via dai dai questa è la tua schiena ah la tece è arrivato piano no dai mi no piano veramente assurdo no 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 au dai dai io del gatto così puoi incalzarsi i denti te do oh ho sbagliato perché non me l'hai schivato perché perché sono calci nei denti a alta velocità alto sto cazzo eh che falle eh tanto siamo in due i gioielli si distribuiscono e la casa è piccola no guarda te ero sul muro maialino di di dai 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 proprio così mori no errore mio è stato errore mio è stato errore mio c'è ancora lag eh troietta eh abbastanza io ogni tanto abbastanza sì rallenta ogni volta si vede quei mini scattini non è è un po' fastidioso però via si può giocare no no anch'io per giocare ci riesco anch'io la cazzo di spada comunque è veramente eh sì in uh mamma mia schivatissimo ma perché dai gatto fa qualcosa di utile più piano è salvato il culo salvato manco di trasformare guarda te no ma ha preso la ca- ha preso la cassa questa è una disdetta è una vera disdetta no ci ho sentato in mezzo come un pivellissimo ciao snake ancora ben arrivato snake oh oh chi mi sta stringendo i panni eh sì ciao no c'è la bomba raffanculo ma che vabbè questo non si spiega ma è mi ha scottato anche a me però eh sta zitto sta zitto era tutto studiato bella mossa ma questo lo piace il culo oh oh no eh sì l'ha fatto l'ha fatto l'aggettino grazie scudo la vedo ardua eh sì no ma era finito era finito era finito era finito ci sta ci sta ah vai Wang vai prova a mandare il link su ai freddi la chat allora aspetta è il link della chat dovrei lo faccio col cellulare aspetta eh che me lo tolgo da qui così tolgo anche un po' di linea da dalla nostra e mi rimango con la mia linea tranquilla aspetta che lo mando a loro allora eccola qua siamo online ragazzi e anche coloro che ci stanno osservando sappiate che per noi è tipo la cosa più bella dell'universo un sogno che sia vera allora la mandiamo su quelli di powerstone no magic no discepoli della bestemmia e e e com'è che si chiamava quell'altro basta ecco quelli di powerstone sì stiamo giocando giocando online a powerstone 2 eravamo sempre sognato che capcom facesse il 3 online allora alla fine ci siamo aggeggiati da soli grazie ai ragazzi di retro multiplayer perché questa cosa è da dire sì perché se non fosse stato per loro noi non ce l'avremmo mai fatta e quindi lo mando anche su facebook eh mi? sì sì li taggo un momento un sogno che diventa intanto mando avanti sì diventa realtà giocando online a powerstone 2 3 grazie chiocciola retro mool com'è che si chiamano mi? retro? retro multiplayer retro mool ti scritto con che? multi player? multi è normale con la i e player con la i non me lo trova così ha scritto la diciamo così il non utente per entrare e via ok vai ci sono ragazzi è una roba che non ha dell'incredibile mh tanta sul piede che poi non ho mai capito cos'è quell'affare sembra un pinguino sì 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 eh tanto sta spada non c'è niente da fa' uh grazie miki miki ciao nel blu dipinto di blu dai da però guarda che buco di culo che c'hai che buco di culo c'hai me lo spieghi? spreco la super così sta zitto che è meglio ma adesso mi va sui rami no non c'è andata sui rami no uh questo? eh prendilo prendilo miki vai preso bravo eh così prova ma dai bravo miki sono armato da grande come sei forte orca madindo dai miki ma perché fuggi? sai come c'è una palla di energia elettrica che mi dà è arrivato teo de boss finalmente miki miki ma che fai miki? no così in diretta no prova dai due a uno almeno cazzo che roba figa però che roba figa ragazzi che roba figa che roba figa no snake discepoli della aspetta sì discepoli della bestemmia è una un'associazione socio-culturale legata ai videogiochi in cui a volte no prendi prendi la la cosa grossa miki prendi la ma in due no siamo troppo scappati uno dei sottomarini dai allora aspetta che ringrazio quei ragazzi miki in secondo prima non lo fa partire sì sì cioè in senso metto pausa allora come aspetta eh sì metti pausa che bisogna lo faccio perché ci hanno aiutato tantissimo e bisogna che lo faccio in diretta non allora non so dove è regolamento annunci bot membri nuovi arrivi mi presento quale cacchio retrobar live streaming eccolo hanno mai permesso di pubblicare molto bene retrobar do caspio eh ah devo andare su il cd mamma mia sta cosa è copia link è un casino perché poi quanto serve di banda cioè serve un milione di gigabit ci vuole non so tu c'hai la fibra da ma che c'ho c'ho i piccioni viaggiatori altro che vai vai mici vai andiamo vai che hai preso gourmand eh beh sì un po' di casse alta velocità così tipo no sì 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 l'ho sentita adesso la spada anch'io di tanto non basta ma mici via 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 ah c'è il gioiello capito da come si riprendono sì sì te lo sai come si riprendono mi quello no esattamente così e neanche questo oh missili addosso no oia va su no no brutto ciccione che non sei altro comunque sulle casse sulle casse sti micro lag so eh no oh Dio mio che missilare va bene vieni giù eh sì aia mamma mia quanto me fa male mamma mia quanto me fa male ti infilzo come uno spiedino che vuoi? oh qui scoppia ma questi quelli sparano quelli fa male vai via aiuto e pure ma eh vabbè dai questi eh quelli li prendono te i denti adesso eh sì li prendo tutti qui un attimo bea eh sì perché te li puoi prendere è giusto eh vaffaride oh scoppia tutto me fa male me fa male me fa male me fa male me fa malissimo dai trasformazione su oh oh merda mi è sciuto adesso adesso io ho il conto io vengo in pace dai sai sì sì facciamo una bella mangiata insieme no non ne ho posso credere non è mai successo che la schivate tutti qualcuno eh va no la bomba mi ha preso adesso 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 mi tagli dai non ce so a fancazzo però è quello il problema più grosso io fugo via subito tosi tiro un barilotto pieno di benzina grazie micchi come ma guarda che veramente veramente non è possibile che bucio de culo no eri quasi morto cioè non morto no però ti facevo molto male invece così moro io è certo che prenderne due così e poi mangiando pure non so qualcos'altro può succedere guarda che bucio de culo che bucio de culo che ci ho avuto eh la madonna no no non è possibile non è possibile ci ho avuto un culo io ti odio io sti carrelli chi l'ha inventato devastante un culo devastante veramente non non si vedeva da aia eh attacca sul muro d'altra volta oh eh si l'ho preso ecco poi il sudden death eh da questa no è rimorto si porca miseria il carrello un'altra volta soffri soffri in silenzio poi no in silenzio no devi soffrire non ci posso credere è che la bomba è la dritta sui denti devi soffrire l'ultima dai devi soffrire l'ultima vabbè la puntata aspetta cambiamo posto si adesso se la metto andate di là vai vai c'è questa è tombaria oh questa tosta eh snake si sente bene il gioco aspetta da scusa che devo eh fare una cosa cosa vai vai la ok pronti no aspetta allora come si nico il secret lady no nico mi dissocio mi dissocio da quello che ha scritto vai mici vai ok si vai si vai aia appadellate in the face oh laggettini qua e là stila che comunque per per arpiare le casse sono terribili si si che li piccano eh quello viene da me questo da me invece guarda te che sfuga eccolo porca miseria tanto gente la fa no ma fare dai giù adesso qua col sasso dietro è proprio bello no ecco dove andare avanti via no mangio mangio mangia le rotelle guarda te questo questo aia tanto te pia passa passo passo no 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 e io bevo adesso bevo bevo troia tanto te fa male tanto te fa male che culo alla prima poi aia e mi trasformo pure dai a mo se perdo è la fine vergogna questo c'ha delle super un po' aia da sopra non se può bevo anch'io bravo so scemo come un cap un capanno oh così si fa allora un po' è ok si mi sembra un perfect è perfect da no non è possibile ah perché hai bevuto pezzente che non sei altro dai dai rifalla rifalla vedemo dai deve essere l'ultima eh però eh vabbè questa è l'ultima delle ultime come hai fatto a arpiarla questo lag assurdo eh perché tanto mica il tempismo è quello non è che quando te la vedi a partì l'ho vista a partì ecco poi dopo eh quello che è successo in mezzo è un'altra cosa eh ma a me aspetta no 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 cosa è successo no ho schiacciato sul joystick con tasto del cavolo che mi fa un po' all'agni cosa guarda mo ho fatto un po' da sotto allora aspetta ok ok mi sei ripreso mi sei ripreso mi sei ripreso mamma mia che liscio sul piede si ma ma com'è guarda te che buco de culo aio via ma qua culo come basta schifata no ma 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 la te che sono un grande via dai dai te schivo un po' questa la schivi? no non l'hai schivata mia quella no lo skateboard no ciao Mike mi dispiace hai visto cosa stiamo facendo? si pure sulla colonna ho attaccato eh tazzo Tomiki stai sempre a lamentate eh faci il sasso va e c'è tà con te che la colonna hai la vedete io magno via muovete 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 bevo pure che buco de culo che c'hai no adesso sono io che buco de culo che c'hai avuto aprendo questa fugo fugo ma vaffanculo dai cioè eh tanto la dovevi prende giusto eh me ne fate più a tutte oh quella mi piace no no troppa fredda no cosa no cos'è cosa è successo non lo so no no che è successo no è uscito eh vabbè dai si vede che doveva essere l'ultima quella di prima mi stiace vabbè vabbè abbiamo fatto la prova ed è stata più che gratificante sì dai giusto streammando live viene so quei micro lag però senza lo stream live è perfetto allora facciamo così ragazzi adesso appena riusciremo a capire come come riuscire a giocare in quattro ve li riporteremo però ecco la sorpresa era questa ovvero poter giocare come quando eravamo ragazzini in quattro contemporaneamente a Powerstone 2 e quindi siamo ultra felici siamo ultra soddisfatti cercheremo sempre di migliorarlo quindi noi ci vediamo stasera buona da ciao a posto Vicky oh sì 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 cioè è al partito è stato è stato una gran figata non ci potevo credere allora che se potesse giocare e ci riproviamo in caso stasera o quand'è ok va bene va bene ciao mi grazie mille ciao da grazie grazie a te ciao e niente ragazzi ci siamo riusciti siamo stati o per la o per la l'altra l'altra l'altro microfono e quindi niente ecco dicevo benvenuta serenity 93 che è la mia ragazza e sì ve l'abbiamo fatto in diretta una sorta di di sorpresa ecco se così la vogliamo chiamare e mi senti mi senti snake adesso dovresti sentirmi snake mi senti però ok a posto l'importante è che mi senti ecco adesso io vorrei fare così copiare questo mi senti snake adesso dovresti sentirmi lo stesso solamente dovresti vedermi leggermente più grande perfetto ed ecco questo è tutto siamo riusciti a giocare online ok siamo riusciti a giocare online a powerstone 2 come non succedeva da tantissimo tempo ad averlo scoperto prima l'avremmo fatto anche sotto quarantena ma va bene così diciamo che che l'importante è essersi accorti poi quando non ha molta importanza non è stato facile devo ringraziare tutti i ragazzi di retro player retro multiplayer che ci sono stati dietro per permetterci di giocare ed è stato bellissimo è una sensazione fantastica devo essere sincero peccato non avere una linea internet che permetta di fare tutto meglio perché così abbiamo dei problemi a streamare e giocare perché uno fa da host e gli altri si connettono è un discorso un po un po caotico ecco per per le questioni delle nostre povere linee internet che sono veramente veramente boh non so come definirle fanno cagare ecco la nostra linea internet in italia fa cagare e quindi niente una brevissima live giusto per vedere e testare e quindi tornate pure alle vostre vite sarà difficile ora tornare indietro quindi bello così ciao ragazzi e grazie mille di averci supportato in questo piccolo traguardo per internet ma un grande traguardo per powerstone ciao ragazzi ciao ragazzi